Bella a tutti Fortniteers, benvenuti su Leontube, mi raccomando iscrivetevi al canale Eccoci qui in questo video per fare la missione della settimana numero 13 Usa una fenditura rottami a burrone del relitto o a relitto quello lì, insomma Dai, senza che lo stiamo andare a vedere o a leggere, vado subito Però o a relitto brullo che sono già segnati sulla mappa Quindi non c'è bisogno di indicarvi dove sono, ma c'è bisogno di indicare invece dove sono La fenditura rottami la troviamo da guaco, quindi andiamo qui a boschetto bisunto Guaco è qua dentro, spero che abbiate dell'oro per comprarla Basterà andare qui da guaco Eccolo qua Parlarci e comprare questa qua, la fenditura rottami Aspetta, non l'ho presa Ok, dopodiché prendere qualcosa e recarci in uno dei due punti indicati Quindi quello più vicino Ovviamente è qua Eccolo qua Quindi noi ci dirigiamo lì Se trovate una macchina Prendetela e fate carburante perché servirà per l'altra missione Facciamo un po' di scudo Eccola qua, la missione di fare carburante Per tre volte nella stessa partita in tre distributori diversi Ok, quindi Ci dirigiamo a tutta velocità Verso il punto indicato Eccoci qua, stiamo per arrivare Stiamo quindi qui al punto di schianto Intanto è finita proprio la benzina Per l'appunto Usiamo una bella fenditurina Veniamo qui Usiamola Ecco qua, missione completata Avete visto? Oh, mi sono auto fatto male Se il video vi è piaciuto Un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici Nei vostri social Lasciate un commento E se vi va Iscrivetevi al nostro canale Un saluto a tutti Ciao